Gianluca Branco, Mario Massai, Giulio Spagnoli, siamo qui quest'oggi per parlare del nuovo procuratore di Gianluca Branco, come mai questa scelta e che obiettivi hai? Anche perché ti aspettiamo ormai da più di un anno, è un nuovo match? No, perché ho iniziato con lui e voglio finire con lui. Sono quasi alla fine della mia carriera, sono vecchietto, allora lui ha detto ti prendo io. È una scelta che avevo già da tempo, oggi l'abbiamo definita, mi sto preparando per questo titolo contro Bundu che ci sarà entro marzo, batterò questo Bundu e poi spero di fare il mondiale. Giulio, quindi un ritorno alle origini, cosa ci dice di più su questo match che ci sarà ormai contro Bundu? C'è poco da dire, c'è molto da vedere, da aspettare, cerchiamo di accelerare i tempi, adesso vedremo un attimino come affrontare tutto quanto il discorso della preparazione con Gianluca, se magari bisogna pure prima di fare un match, adesso vediamo un attimino, cercheremo di ottimizzare tutto, la cosa importante è che lui, come quello che mi ha dimostrato, è la determinazione e la sagacia con cui intenderà affrontare Bundu perché è stato un ottimo campione, già campione europeo, non voleva tornare a fare l'europeo, è tornato a farlo, quindi a questo punto motivazione in più per Gianluca, proprio per definire il suo valore, la sua prevalenza sul trono d'Europa. Gianluca come al solito si prepara sempre, già eravamo preparati per combattere, dunque ho avuto un piccolo infortunio, ci siamo rimessi sulla cresta per ricominciare, andiamo appunto a battere Bundu, Bundu è un grande atleta, un bel atleta, ma abbiamo fatto con uomini molto più spessori di Bundu, dunque non è che temiamo Bundu. Quindi siete già determinati, siete pronti anche a combattere oggi? Sì, ma se lui vuole anche quest'altra settimana non c'è problema, noi siamo qui pronti per lui. Però siete anche pronti per la nuova scuderia? BMB? Sì. Branco e Massai? Sì, siamo già pronti anche per quello, abbiamo fatto appunto questa società nuova e daremo anche ad altri bugili momenti buoni per combattere, i vari Larghetti, Collai, Di Silvio, Marsili e via discorrendo. Grazie. 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 Grazie.